Il PSR è quel mezzo che ti dà la possibilità di ingradirsi e soprattutto di migliorare quello che è la tua azienda. Gli interventi che ho realizzato grazie alla misura 121 del piano di sviluppo rurale è stato questo impianto di bancali, con bancali mobili in alluminio e con il sistema di irrigazione per subirrigazione, flusso e riflusso. E' un impianto di riscaldamento alla base delle piante per creare un ambiente più giusto per la sua crescita. Io ho ricevuto il 40% dell'investimento totale che ho fatto per il miglioramento dell'azienda. I benefici sono stati maggiori che ho avuto, sono stati quelli di rendermi il lavoro più leggero, più facile, accorciare i cicli di produzione delle piante e dare la possibilità di fare delle coltivazioni che in passato non mi era possibile fare. Realizzare lo stesso intervento senza il contributo sicuramente sarebbe stato molto più difficile. Le difficoltà maggiori che ho incontrato sono state sicuramente quelle di carattere burocratico. Le innovazioni principali sono state quelle di rendere la coltivazione con dei costi anche minori di produzione, non c'è un'espressione di acqua perché la stessa acqua viene riciclata e viene ridata di nuovo alle piante per tutto il periodo della loro coltivazione. Il messaggio che io voglio lanciare ai giovani è quello che praticamente oggi mi rendo conto della situazione, però bisogna avere fiducia e bisogna avere coraggio, soprattutto coraggio e impegno, però sono molto fiducioso, comunque io ci credo, ci credo nel lavoro.